Presente qui in Piazza del Popolo a San Severino Marche a questa mostra delle attività produttive ha anche la Banca Macerata con un apposito stand. Qui con noi il direttore generale Rodolfo Zucchini con cui parliamo dei vari servizi che questo ente è in grado di offrire a tutti i suoi clienti. Innanzitutto buonasera a tutti. Banca Macerata è in grado di offrire tutti i servizi bancari e finanziari comunemente noti quindi andiamo dal conto corrente, depositi, tutti i tipi di prestiti, investimenti. Siamo anche attenti alle nuove tecnologie, andiamo sui prodotti online, cerchiamo di essere telematici perché questa è la nuova frontiera. Tuttavia ci piace rimanere legati al territorio e quindi anche con sportelli tradizionali con la presenza di una... con giovani dipendenti brillanti, con consulenti finanziari. Cerchiamo di presidiare e cerchiamo di recuperare quella banca del territorio che altri istituti invece gradualmente stanno abbandonando. Come siete quindi articolati dalle nostre zone? Allora, le nostre zone abbiamo cinque filiali e abbiamo tre punti servizi. I punti di riferimento chiaramente sono Macerata, Civitanova, San Giorgio e Tolentino e da quest'anno anche proprio a San Severino Marche perché vogliamo dare un segnale di presenza e soprattutto di solidarietà in un momento in cui il terremoto, come sappiamo, ha creato difficoltà di non poco conto. E come dicevo prima, il fatto che altri istituti si stiano gradualmente ritirando, secondo noi non è una giusta politica, soprattutto per il territorio. Il vostro slogan dice dove vuoi, quando vuoi. È davvero vero o è vero solo in parte? No, lo è perché, come ripeto, noi abbiamo due reti, una interna e una esterna di consulenti finanziari che sono in grado di raggiungere il cliente in azienda o nella propria residenza e siamo in grado, come dicevo, di offrire anche dei prodotti in via telematica. Basta collegarsi sul nostro sito che è www.bancamacerata.it e si possono trovare delle interessanti indicazioni. Qualche novità previste da qui ai prossimi mesi c'è? Novità? Adesso, ad ottobre, apriamo un nuovo punto servizi ad Ancona. Stiamo valutando delle proposte da parte dell'entroterra che reclama appunto la presenza di uno sportello bancario. Adesso faremo delle valutazioni perché chiaramente ci sono da conciliare diversi fattori, però è il nostro interesse essere presenti e gradualmente rimpiazzare banche locali che piano piano stanno venendo meno.